Mi ringrazio molto di questa occasione di confronto. Ho sentito questo primo intervento sulla App Immuni e anche su questa sorta di provvedimenti premiali a favore di chi la utilizzi. Quindi intanto chiariamo subito che i problemi che apre l'App Immuni sono problemi non legati alla privacy in quanto tale, ma piuttosto al profilo della sorveglianza, che sono due archetipi diversi della tutela della libertà degli esseri umani. In questo caso l'App funziona come un registratore e cioè è come se noi nel momento in cui dovessimo essere colpiti dal virus e andiamo, ci recchiamo nella struttura sanitaria, in quel momento ci viene chiesto di narrare le relazioni che abbiamo avuto negli ultimi giorni e questo è il protocollo sanitario oggi vigente. Noi raccontiamo che conviviamo in una famiglia fatta di un certo numero di persone, che lavoriamo in un certo contesto, che abbiamo frequentato alcune persone. Tutto questo per consentire di tracciare l'eventualità che ci siano altri soggetti che possono aver contratto il virus o addirittura che ci sono alcuni focolai. Questo nostro racconto normalmente dura pochi minuti ed è popolato da ricordi che riguardano 15, 20, 30 persone, non di più, soprattutto in questo momento storico. Ecco, la App serve a integrare il nostro racconto e a estendere quei 20, 30 contatti che abbiamo avuto negli ultimi giorni a un numero molto più ampio di altri contatti che inconsapevolmente o consapevolmente abbiamo avuto ma che non ci ricordiamo né siamo tenuti a ricordarci perché se sono stato ad esempio in un bar nel momento in cui fossero aperti a prendere un cappuccino, pur con la mia mascherina, pur con tutte le distanze del caso, ma sono rimasto un certo numero di minuti ed effettivamente il barista era un soggetto affetto da Covid, io nel ritornare a casa e quando dovesse capitare anche una vicenda in cui io stesso mi ritrovo affetto da Covid, posso ragionare su altri soggetti che hanno quella patologia. Questo consente in prima battuta di lanciare un alert su tutti i contatti che ho avuto nel corso della giornata. È chiaro che il meglio è il nemico del male e quindi si potrebbe immaginare che l'alert debba arrivare poche ore dopo. Il problema di fondo è che il soggetto colpito dalla patologia non se ne accorge subito, lo sa dopo qualche giorno, nel momento in cui si reca nella struttura sanitaria e racconta quelli che sono stati i suoi contatti, in particolare in quel momento gli viene assegnato un codice. Qui c'è il primo passaggio, diciamo così, di libertà, di volontarietà. La struttura sanitaria ti dà un codice, tu quel codice lo emetti nella tua app e a quel punto si accendono come in un alert tutte le app degli altri soggetti che hanno avuto contatti con il sottoscritto. E qui c'è un secondo momento di grande volontà, qui bisognerà capire il governo cosa fa. E cioè colui che riceve l'alert è tenuto anche giuridicamente a recarsi in una struttura sanitaria e a chiedere ad esempio un'analisi, un tampone per verificarlo? Oppure è rimesso alla sua moralità? Ecco, questo è un tema non indifferente, perché se c'è un obbligo giuridico ci sono poi anche delle responsabilità civili, se non penali, nel momento in cui non ci si reca davanti a un avviso, un alert di app nella struttura sanitaria. Allora, davanti a questo scenario, effettivamente i contenuti che possono ledere la privacy sono minimi, perché qui siamo davanti a dei codici che sono relativi a delle persone, ma le persone sono sostanzialmente anonime, perché io quando scaricherò dalla mia app tutti i contatti che ho avuto non sono nient'altro che gli elementi identificativi di altri cellulari, i quali non mi dicono nulla rispetto al soggetto titolare di quel cellulare. Il tema un po' più delicato è invece il trattamento di questi dati in capo all'autorità pubblica, il coordinamento del Ministero della Salute. Ecco, qui io credo che ancora non si è risolto totalmente questo aspetto, tant'è vero che il provvedimento definitivo, al di là del decreto, non ha visto la luce. E cioè, non c'è dubbio che una banca dati centrale che possa avere a questo punto, sì, i tratti identificativi dei pazienti e anche le patologie, e apro una parentesi, non sarebbe nulla di nuovo, perché già oggi con la cartella sanitaria elettronica tutti noi abbiamo una biografia medica con le nostre patologie in seno alle strutture sanitarie. Quando noi ci ricoveriamo anche d'urgenza, immediatamente il medico che ci intervista apre la schermata e già vede il profilo sanitario nostro. Anzi, il problema vero è che non abbiamo protocolli omogenei in tutte le regioni e quindi ci sono ancora delle disparità tecnologiche che non consentono di avere un tracciamento utilissimo, soprattutto quando uno si trova in una situazione di urgenza, ad esempio immediatamente capire che un certo medicinale non può essere dato perché si è refrattari a quel tipo di medicinale, ad esempio. Qui si aggiungerebbe anche la patologia legata al Covid. Il problema della privacy è legato come, ahimè, quello che è successo qualche settimana fa all'Inps, cioè se qualcuno si introduce in queste banche dati e va a fare incetta di quei dati e poi li utilizza magari per finalità anche illecite. Ma non c'è un problema che stiamo tracciando dati che ad oggi non erano mai stati tracciati. Il dato sanitario, con tutte le cautelle del caso, già oggi sono state tracciate le patologie delle persone. La, diciamo così, provocazione del redattore che mi ha preceduto, e cioè potremmo immaginare, visto che il decreto dice espressamente che non si possono discriminare le persone a seconda che si utilizzi o non si utilizzi la app. E questo ovviamente sarebbe odioso e vietato. Ma si diceva, possiamo invece immaginare come meccanismo premiale, e cioè davanti a una situazione che riguarda tutti i cittadini e dei divieti che in un momento emergenziale riguardano tutti, se si vuole superare quel divieto, si può immaginare che a fronte di un pezzo di libertà che in quel momento l'ordinamento comunque ha conculcato, legittimamente ma l'ha conculcata, si possa riconquistare laddove si utilizzi. Però l'app è stato fatto l'esempio di recarsi fuori regione in un luogo di residenza altrui. Ecco, qui il tema è delicato perché c'è un tema di fondo che poi riguarda anche le responsabilità civili e penali del dopo Covid. E cioè occorre ricordarsi sempre che nel momento in cui le norme lasciano, autorizzano o addirittura incentivano all'utilizzo di certe tecnologie o addirittura le mettono come condizione per alcuni comportamenti, laddove poi non si operi attraverso quelle tecnologie, il livello di diligenza del consociato risulta particolarmente aggravato. E cioè significa che se poi un domani ho dato adito a una lesione involontaria ma colposa, siamo nell'ambito dell'illecito civile, non certo di quello penale, nel momento in cui ho dato adito a una responsabilità che ha creato una lesione ad altri perché hanno contratto il Covid in assenza dello scaricamento della mia app, certo nel momento in cui c'era addirittura un livello di incentivo nell'utilizzo la mia responsabilità potrebbe risultare particolarmente aggravata. segnalo un altro aspetto e questo probabilmente apre uno scenario anche, uso un'espressione un po' abusata, ma di democrazia, e cioè l'app nel momento in cui traccia l'altro cellulare, due soggetti sono vicini, devono stare a meno di due metri perché se sono a più di due metri non scatta il contatto fra i due cellulari, può tecnicamente ovviamente scattare, ma il programma è formulato in modo tale che ovviamente due persone molto distanti e non possono neanche teoricamente contrarre, trasmettersi il Covid e quindi non si capisce l'app perché dovrebbe segnalare quelle persone e quindi si dà una misura del distanziamento al di sotto del quale scatta l'app. ma c'è un altro aspetto, il tempo, la durata di questo contatto con l'altro soggetto e dalle conferenze stampa abbiamo sentito che devono essere almeno 15 minuti perché la scienza dice che sono dopo 15 minuti che effettivamente c'è un vero rischio. ma è molto diverso da quello che ci è stato detto finora dalla vulgata mediatica perché stiamo tutti attentissimi a non avere contatti anche in frangenti di secondi perché ci fanno vedere che nell'aria circolano bacilli che possono immediatamente infettarci. delle due luna o davvero è accettabile l'idea che il rischio vero sorge solo dopo 15 minuti di contatto allora tutta questa costruzione dell'app ha un suo senso oppure se non è vero e quindi si può contrarre il virus anche ben prima di quei 15 minuti nel momento in cui si sta evidentemente a una distanza minore di quei due metri e non vorrei che questa app diventa semplicemente uno strumento per poi far dire è stata utilissima perché abbiamo tracciato un sacco di positivi e quindi in qualche modo li abbiamo tracciati perché abbiamo spinto molto in là il rischio e quindi ci siamo ritrovati con uno strumento della tecnologia che potrebbe obiettivamente attenuare il rischio e quindi evidentemente ci sarebbero tanti alert che grazie al cielo non vanno a segno perché io sono stato 3-4 minuti vicino a un'altra persona non ho contratto il virus, mi è arrivato l'alert perché quella persona invece è stata colpita da Covid mi vado a fare il tampone ma io non ho contratto il Covid e invece se si estende ad almeno 15 minuti capirete che a questo punto la casistica diventa molto inferiore e allora che significa? che questo significa voler dimostrare che ha funzionato questa tecnologia magari a discapito invece di tanti altri casi che al di sotto di quelle esposizioni di 15 minuti potrebbero aver contratto il virus oppure era tutto falso quello che ci è stato detto ci vogliono sempre almeno 15 minuti questo è un problema importante non va sottovalutato perché la comunicazione che è stata data in questi mesi era molto più rigorosa non parlava di esposizione di almeno 15 minuti tra i soggetti faccio un esempio banalissimo tutto il problema del calcio a questo punto non sussisterebbe perché quando mai i due calciatori stanno vicini e attaccati per 15 minuti non succede, sono pochi secondi allora cerchiamo davvero di renderci conto anche nella comunicazione rispetto a queste tecnologie di quanto ci sta una certa enfasi e quanto è strumentale magari all'utilizzo e l'applicazione io sono fermamente convinto che è molto utile un'app soprattutto per integrare e allargare quel racconto del paziente il quale accanto a quei 10-15 amici che sa che ha contattato socialmente ne potrà aggiungere altri 50 e a quei 50 gli arriverà un alert e loro potranno con scrupolo o forse per obbligo di legge, e questo lo vedremo, andarsi a fare l'analisi ultimissimo aspetto è stata rifiutata la tecnologia del satellitare, del GPS cioè è stato detto tracciamo attraverso l'app i contatti sociali ma non identifichiamo dove e quando avvengono mentre il satellitare ci consente di dire dove e quando perché il satellitare riesce a mappare il territorio e gli spostamenti dei cittadini e facciamo una riflessione anche su questo ma siamo convinti che vada radicalmente rifiutato il satellitare in alcune zone rosse dove invece si potrebbero a questo punto identificare anche dei focolai perché mica è indifferente che io ho avuto contatte con altre dieci persone e quelle dieci persone poi si sono ritrovate a contagiarsi tra di loro o viceversa io nel mio percorso quotidiano ho avuto tutta una serie di relazioni dove poi quando vado a scaricarmi i dati trovo tanti singoli numeri che non mi decono nulla sul dove e quando quando magari potrebbe essere che dei cinque conteggiati non sono cinque in giro per la mia città ma sono tutti e cinque che stavano in quello stabile in quel luogo di lavoro e quello è già un focolaio e quello evidentemente merita una misura di maggiore attenzione e questo non lo si può fare con l'app immuni o qualsiasi altra app c'è bisogno invece di un tracciamento diciamo così dall'alto dove si identifica effettivamente il luogo e l'orario di quei contatti ecco queste sono sollecitazioni che io rimetto alla vostra intelligenza e anche alle note critiche che immagino ci saranno ma che confido possano davvero laicamente essere intese come contributo al dibattito vi ringrazio grazie